ciao ragazze bentornate sul canale questo è il quindicesimo video per quanto riguarda tutta la mia collezione di pandora fino ad oggi e negli altri video lo riepilogo velocemente e se non li avete visti ci sono tutti bracciali orecchini collane abbiamo visto le collane adesso stiamo vedendo gli anelli sono questo è già il terzo video credo degli anelli e speriamo sia anche l'ultimo speriamo e poi che abbiamo altri bracciali da farvi vedere eccoli qui e qualcos'altro che non ricordo adesso di preciso comunque allora gli anelli erano questi ve li ho fatti vedere già negli altri video questi qua che non li ritiro se volete che li faccio rivedere ma è soltanto per farvi un attimo ricordare velocemente sono questi qui sono questi anelli qui ok oddio oddio che non si gira ecco questi li abbiamo visti già nei video precedenti quindi non li non li prendiamo in considerazione a non vi ho fatto vedere questo perché l'avevo in un'altra parte l'ho indossato e quindi ve li voglio far vedere mi ha pizzicato un moscerino credo che sta facendo veramente il nido dentro il mio braccio dio che immagine vabbè comunque e anche uno sul dito mi ha pizzicato oddio che dolore beh qua casca male perché non c'è più niente però qui sì e quindi quest'anello ve lo voglio far vedere subito subito così iniziamo proprio alla grande questo è un anello con un ametista pure sporchina non l'abbiamo pulita bene vabbè così c'è anche con lo spinello nero eccola qui è un pochino vecchiotto come come anello devo dire la verità però è molto 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 carino e soprattutto è veramente bello luminoso di questo anche il pendente e che però non ricordo non so se ho gli orecchini sì forse anche gli orecchini di questo ed ecco qua molto molto grazioso lo portavo ecco così sta benissimo e devo dire che mi piace molto come sta su sulla mano comunque ecco qui segretaria ciao segretaria saluta ha salutato ora andiamo avanti con la carrellata mamma mia iniziamo bene quanti ne sono sono tantissimi sono tantissimi vabbè iniziamo con il primo se no guarda dopo li devi rimettere così eh come sono questi è bello pesante questo questa diciamo stecca puffosa iniziamo con questo allora anch'esso è un anello già datato comunque ve lo voglio far vedere un attimino un po' più da vicino però per avvicinarci dobbiamo allargare un pochino l'immagine sapete sempre così ebbene eccola qui questi sono tutte pietre naturali queste un po più grandi eccolo è una fascia composta da uno due tre si da tre quattro strisce in questa maniera qui si trova ogni tanto diciamo magari qualche ragazza che non vuole più indossarlo o che non gli sta più bene la misura lo vende si trovano insomma un pochino si riescono a trovare questa collezione molto molto bella io di questo anche se non sbaglio il il charm sì 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 dovrei avere il charm allora vi voglio dire una cosa questa è una misura 52 ma calza 50 perché non so se lo sapete ma le fasce soprattutto queste fasce molto molto alte bisognerà prenderle sempre una misura superiore al dito dove si vuole indossare perché per esempio ecco io qui sul su questo dito ho una 50 e questa è una 52 sta molto molto bene se provo anzi forse perfetta se prova indossarlo qui che ho una 52 non mi entra neanche questa è la caratteristica della maggior parte delle fasce di insomma sia che sia pandora un pandora sempre una misura in più ricordatevolo poi andiamo avanti altro anello ecco questo è un anello molto particolare perché a tutte questi questi cristalli queste zirconie fatte tutte a carre ma montate in maniera obliqua come potete vedere non è un eternel perché la parte dietro è rimasta semplice questo dà modo anche di vi faccio vedere di non non dar fastidio vedete perché comunque è un pochino altino qui no di non dar fastidio nel momento in cui si piegano il se piegano le dita e soprattutto se si vuole allargare o stringere lo si può fare con molta molta facilità no perché allora lo si può fare ritorniamo a noi l'unico problema è che va probabilmente a a inferire un pochino sulla parte qui vi spiego se era metà cioè se le pietre arrivavano a metà un po ci si può giostrare il gambo scende un po di più quindi un pochino più difficile però un forse un bravo orafo riesce a farlo insomma ecco tendenzialmente io sconsiglio questa pratica perché primo ne va della autenticità comunque dell'oggetto perché questo nasce con una misura prestabilita e quindi però se uno proprio vuole deve o può o mette un riduttore qualora sia troppo largo ma se vuole al limite lo può far limare un po qui in questa parte e un mezzo punto in qualche modo lo recupera certo non è non viene perfetto perché viene comunque assottigliato però diciamo che un pochino lo puoi recuperare altri altri cambiamenti io non li farei perché va ad intaccare diciamo la parte delle griff in questo caso non ci sono griff è soltanto un incastonatura fatta in questo modo però potrebbe andarla di intaccare vi potreste perdere qualche pietruzza bene 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 comunque fatto benissimo è una favola questo anello è stupendo è veramente anche come fermanello qualora fosse insomma lo si può indossare veramente vediamo un po no lo si può indossare veramente in tanti tanti modi molto molto bene mi è piaciuto tanto andiamo un po più velocemente altrimenti ecco questo è un anello color verde tiffany verde acqua verde tiffany se ok da una parte ci sono tutti i cristalli con la stessa tonalità e dall'altra parte c'è lo smalto questa è una linea che fece pandora di sei pezzi sei pezzi cioè verde viola blu rosa bianco e fucsia queste sono state le colorazioni fece sia gli anelli che i bracciali quelli li abbiamo credo visti in qualche video precedente forse uno dei primi video segretaria se con me li abbiamo visti quelli che si mettono al polso e vanno con lo scatto ed ecco qua questo è l'anello l'anello dentro è fatto in questo modo non si può modificare ovviamente perché vedete tutta è tutto fisso insomma non ha parti modificabili nella parte degli smalti né tantomeno di qua molto molto carino questa sì anche questa è una misura piccolina lo si può indossare così ho semplicemente girato così con un altro anello insomma ci sono vari modi per poterlo indossare questo però io oltre ad avere questo colore che è di segretaria questo qui perché piccolino o anche questi che poi vi faccio vedere vedete che è lo stesso perché l'ho preso doppio questo questi sono un po più grandi anche si vede anche da come si muove sulla sulla stecchetta puffosa e questo è più piccolino per segretaria ecco volendo io lo posso indossare e indosso lui in questa maniera qui quindi ne indosso uno di qua e uno qua insomma volendo si può fare insomma non cambia poi molto poi abbiamo loro che sono stupendi questi li presi in saldo molto molto belli ve li faccio vedere sono due anelli spettacolari questi li mettevo insieme ecco perché li ho voluti così però adesso non mi entrano neanche più ve li faccio vedere qui sono piccolini e hanno una parte con tutti infinito vede vedete come sono tutto infinito dove una parte semplice una parte con tutte zirconie segue tutta quanta la riviera fino ad arrivare ad un infinito in oro 14 carati eccolo qui molto 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 bello bellissimo quest'anello particolare lo trovai veramente a sconto strepitoso e lo presi insomma con l'idea di metterne due insieme poi come ho detto già negli altri video mi sono un po' cicciottata e quindi qui è un po' difficoltoso forse oggi anche un po' caldo comunque molto molto belli poi che abbiamo eccolo allora credo nel primo nel secondo video io vi parlai dei bracciali bruniti sì poi ve ne parlai anche con gli orecchini sì e anche con i pendenti sì l'ho detti tutti niente non mi ferma segretaria quando inizia a fare queste cose comunque questo è l'anello che ho con la stella è sempre pandora brunito quindi argento con la stella e oro 18 carati qui qui e qui e tre diamanti tre diamantini questi sono proprio diamantini ecco vediamo se è una fascia come potete vedere questa la indosso tranquillamente qui sul sul mignolo forse riesco ad indossarla forse adesso magari no perché sono un po' gonfia anche in questo dito qui ma in questo momento non ci provo neanche perché lo vedo già che mi può dar fastidio eccola qui vedete rappresenta proprio la stellina quella del del set brunito dietro a molte righe due quattro sei sette fascette diciamo e quindi la misura obbligatoriamente dovrebbe essere deve essere più grande altrimenti se scegliete che avete non so un dito 54 prendete la 56 per forza perché altrimenti nella 54 così alto soprattutto non entrerà mai anche se non è eccessivamente gonfio no è molto molto liscio però insomma rischiate che poi non vi entri e quindi dovete cambiare dito molto molto bello questo è uno dei miei preferiti vedete spettacolare tutto brunito questo ancora in perfette condizioni come potete vedere vabbè ma io ci tengo particolarmente questo molto molto attenta però bisogna stare attenti con il brunito un'altra fascia molto particolare anch'essa è lei e allora di questa tipologia pandora ne ha fatti due tipi uno con il colore nero e una con il colore bianco sono diamanti diamanti neri diamanti bianchi e questi sono rivetti in oro eccolo qua ve lo faccio vedere questo anello io lo chiamo io lo chiamo lo si chiama ossa perché rappresenta vedete delle ossa messe una a susseguirsi all'altra è molto particolare ecco qui c'è anche una dicitura in più vedete credo che la funzionatura sia interna eccola qua aspettate ve la faccio vedere meglio è un old old infatti non c'è neanche la s davanti a 925 è molto vecchio ma molto 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 bello bellissimo questo lo adoro proprio mamma mia quanto è bello questo mi ha costato un po devo dire la verità però merita perché è una fascia da un po fastidio è sporgente non so come dirvelo rispetto alle altre fasce si sente un po sul dito si sente ma l'effetto è strepitoso c'è favoloso forse forse l'anello più bello no c'è un altro che mi piace molto vabbè è fra quelli più belli fra quelli più belli stupendo poi con questi diamanti stupendo bellissimo poi che cosa abbiamo ecco questo è un regalo della mia fiorella anche la stellina che vi ho fatto vedere nel primo video credo o nel secondo non ricordo anche quello era il regalo era un suo regalo la stellina no forse un altro vabbè mi fece due anelli in regalo non ricordo quali questo sicuramente molto molto carino poi ci siamo scambiati dei regali e questo mi è piaciuto tantissimo questo era il suo ovviamente grande lo si può tranquillamente indossare come fermanello guardate che carino aspettate che tolgo l'altro che già vi ho fatto vedere che non ha senso che lo venga qui ecco vi faccio vedere questo pure l'ho portato tantissimo perché quando lo indossi non si sente nulla è un'eternel fatta con tutte queste zirconie tonde incastonate in maniera tonda proprio e quindi non si sente cioè non dà fastidio per nulla anzi eccolo qui questa addirittura è una misura grande è una 56 però sapete che qui infatti questo andrebbe meglio qua sì credo di sì però allora a questo punto forse qui è una 54 oggi forse è una 56 niente mi si sono gonfiate tantissimo le mani con il caldo non so se succede pure a voi scrivetevelo qui sotto se scrivetemelo se accade penso di sì però perché fra piedi e mani veramente è una cosa incredibile dovremmo bere di più mi è stato detto che ne pensate a me sembra che più bevo più mi gonfio ma è una mia idea non ne so nulla in merito quindi non so magari se qualcuna di voi è più ferrata in argomento mi farebbe piacere comunque eccolo qui poi andiamo avanti un bacio a bracci allora di questi anelli favolosi dal prezzo a volte proibitivo perché questo veniva a 129 mi sembra una cosa del genere ma a prezzo pieno ma io non l'ho preso a prezzo pieno e di questi baci a bracci ne ho 4 sì e anzi ne avevo 5 uno l'ho regalato sì e quindi ne ho 4 sono di misure differenti questa per esempio è un po' più grande qui sta benissimo vedete come sono fatti si chiamano proprio i baci a bracci perché hanno questo tondino e questa crocetta questa x io inizialmente un po' da profana andavo cercando l'anello forza 4 perché è un po' come tris avete mai giocato a tris dove ci sono quelle righette così e così e ci si mette il tondo la x e poi si fa tris ecco che è un po' un forza 4 un gioco della Mattel credo di tanto tempo fa non ricordo insomma e comunque andavo cercando per spiegarmi bene siccome questi sono vecchietti anche loro sono old anche loro andavo cercando appunto esprimendomi in questa maniera poco carina questi anelli le ho trovati con un buonissimo sconto tanta che ne ho presi di diverse misure le ho indossate anche insieme quando ancora ero un po' più con le ditina più piccole vedete questa per esempio è una 52 vedete questa è una 52 si si vede bene adesso mi entrava e mi usciva tranquillamente qui sul dito quindi andiamo avanti molto carino comunque andiamo avanti un altro anello che mi piace tanto ma proprio tanto è questo questa è una 50 è un anello molto molto semplice non è old è abbastanza recente mi piace per il contrario che ha appunto sulla parte davanti mentre dietro è semplice così eccolo qua l'immagine penso che insomma abbastanza luminoso si può indossare in modo molto tranquillo non lo ritengo adatto per un fermanello perché appunto a questo motivo e quindi non è molto adatto per un fermanello secondo me è adatto anche proprio per essere indossato da solo vediamo se rende rende anche qui si rende e rimane pure non si sposta questo potrebbe essere utilizzato anche così si mi piace promosso parlando un po' di anelli old abbiamo questo eccolo qua molto particolare anch'esso non so che misura sia boh vabbè comunque molto particolare ah questo potrebbe no non entra no fermi tutti fermi tutti fermi tutti forse entra qui si entra qui ma non lo spingo perché sennò mi diventa rosso il dito come l'altra volta avevo delle dita all'ultimo video impressionanti rosse bordeaux proprio comunque anche esso molto molto carino ha proprio questo stile un po' brunito però luminosissimo perché le zirconi sono luminosissime vedete ma intorno intorno a tutte queste borchette ecco il sotto questo a volte lo indosso anche con i troll bits perché secondo me lo riprende bene anche se è luminoso poi tiro fuori entrambi sono due perle rare nel senso che sono due anelli molto ricercati molto belli con pietre naturali questa è pietra di luna se non sbaglio pietre naturali e stupendi sono old questi anelli ve li faccio un attimo vedere sono di due misure diverse vediamo dov'è questa eccola non riesco a vedere la misura bene però una 54 quindi questa è una 54 mentre lei è una dove sta eccola qua sempre al contrario questa è una 50 quindi infatti qua sforzo troppo comunque vi voglio far vedere un attimo così ve li metto sono così solitamente li porto insieme per il sempre il solito discorso allora sono un po' delicati ve lo dico subito qualora doveste trovarli cercate di fare attenzione quando sono usati perché questi si trovano usati nuovi non credo e tutto potrebbe essere per carità anche all'estero capace che si trovano qualcosa di nuovo forse però la mano sul fuoco non ce la metto perché è stato veramente stravenduto e straapprezzato anche negli ultimi anni quindi trovarli nuovi è un po' un po' un dubbio comunque doveste trovarli guardate molto bene le pietre fatevi fare foto video e tutto quanto perché hanno le pietre sono naturali ma sono sporgenti vedete sono dei cabochon sporgenti e quindi tendono un pochino a rovinarsi quando sono usati ma che è di là quel casino eh ma vai a dire a mister x di abbassare un po' grazie segretaria segretaria che dobbiamo fare vedete queste sono perfette perché io sono riuscita tempo fa ovviamente a trovarli nuovi entrambi e quindi eccoli qua bellissimi bellissimi veramente sono stupendi guardateli sono dei capolavori guardate come sono fatti il cuore vedete i fiori sono piccoli capolavori sono veramente magici favolosi mi piacciono un sacco bene 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 sono contenta di averli allora questo è un altro baci a bracci più piccolino credo sì eh sì penso di sì dove è l'altro il baci a bracci eccolo qua sì in effetti come potete vedere hanno dimensioni differenti si vede no ecco e questi eh solitamente li mettevo comunque insieme insieme agli altri due che ho da qualche altra parte perché eh avevo pensato anche di darli via due che hanno la stessa credo la stessa misura di questi altri due qui e quindi non so avevo pensato di darli via vediamo come tiro fuori tutti e quattro insieme questi che sono quelli con lo smalto che vi ho fatto vedere prima e con le zirconie colorate allora guardate quanto sono carini questi insieme sono una favola adesso qui non mi entrano oggi comunque fate conto che li ho messi qui ok perché quella la sua scivola troppo non potrebbe andar bene quindi fate conto che li ho messi qui guardate che luminosità che hanno sono bellissimi insieme molto molto estivi divertenti giocosi potete mettere due quattro tre uno e questa è la parte appunto tutta smaltata io per scelta non ho preso il bianco perché con l'esperienza ho paura che magari portandolo sulla mano si possa opacizzare diventare tipo color crema la cosa non mi avrebbe fatto piacere e quindi li ho presi solamente questi pensavo di avere anche quello fucsia pensavo ho sbagliato il bracciale ce l'ho l'anello non capisco perché io ero convinta comunque questi due per esempio sono identici ma come vedete la misura è totalmente differente quello che vi ho detto prima di segretaria no? ok questi possono andare insieme anche così cioè tipo solamente due guardate così quanto sono carini così sono molto graziosi anche portati così sono molto carini divertenti estivi oppure questi qui insieme no? sono belli sono bellini ci si può sbizzarrire con questi veramente fa piacere poterli indossare perché sono coloratissimi belli mi piacciono tanto eccolo l'anello di fiorella della mia amica insieme all'Eternelle questa qui eccolo qual era era questo quindi lei mi ha regalato questo qui insieme all'altro è effettivamente molto grazioso tant'è che ha la stessa misura dell'altro come potete vedere è un contrarie con i cuori all'estremità vedete e poi una parte a tutte queste zirconie dietro invece è semplice carino grazioso si può portare praticamente nello stesso modo di quello che vi ho fatto vedere prima che adesso non trovo più eccolo di questo perché alla fine sono molto simili perché sono ambe due contrarie questo è aperto ok questo è chiuso però l'effetto è quello ovviamente non può essere come l'altro un fermanello mentre l'eternel che vi ho fatto vedere sì oh ma che cosa abbiamo qui un anello vecchio 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 eccolo qua ora quest'anello è un misto fra un brunito questa che misura è una 48 lo sapevo eh vabbè fra un brunito sì quando ancora portavo la 48 al mignolo e il lucido vedete anche questo lo si può indossare tranquillamente con Troll Beats perché il brunito se vedete bene passa per tutto l'interno quindi una sorta anch'essa di Eternel però fatta in questo modo qui vi voglio far vedere bene bene come è composto questo è particolarissimo se lo se lo trovate io ve lo consiglio magari con una misura adatta per essere portato qui perché secondo me qui sta veramente bene questo è perfetto per l'indice per come è fatto per vedete per l'effetto che dà sul dito è molto più bello qui rispetto al mignolo però questo c'era e questo ho preso ora ecco uno dei miei anelli preferiti di cui facevamo prima il discorso ed è lui eccolo qua io insisto a infiarlo qui quando so che non mi entra lo sapevo ogni volta cioè sono video che faccio così eh e poi mi diventa tutto viola guardate il dito già come è diventato mannaggia a me ecco comunque lui è un intreccio favoloso molto raffinato molto bello è tutto corre tutto intorno non ha interruzione quindi bisogna stare molto attenti con le misure una volta mi andava bene qui adesso probabilmente dovrò inserirlo qui guardate com'è bello sul anche su questa falange qui perché è molto schiacciato cioè si sviluppa in altezza lascia spazio e lascia respiro ma è molto schiacciato non dà fastidio per niente bello veramente non si sente si porta favolosamente bello mi piace tantissimo a me questo anello questo invece è di segretaria uno degli anelli di segretaria è questo qui ce n'era pure un altro fatto così tuo infatti non mi ricordo manco io vabbè ve lo faccio già vedere qui senza che scendano nel mignolo comunque a queste pietre vabbè queste zirconie nere bianche è una corona una coroncina come potete vedere tutta intorno gira quindi non ha interruzione di sorta molto grazioso io ricordo che ce n'era un altro identico che lo facevamo fare di qua quindi diventava una sorta di fascia però non lo trovo comunque questo non è mio di segretaria è piaciuto così andiamo avanti un altro anello di segretaria che io non capirò mai ma so che a molti piace è lui io non lo capirò mai questo lei fa impazzire quando le ho chiesto dai mamma ti fa un regalo andiamo dai ti compro un anellino ce n'erano bellissimi a valanghe e si è scelta questo cuore di mamma bello ecco l'avete sentita? bellissimo ancora ma tu lo vedi? bellissimo per carica in seria no sicuramente è carino per carità sta che bene in effetti non è brutto vedete non è brutto è piatto si può usare anche sopra qui ma sul dito forse rende di più non so è movimentato corre per tutto il dito lo stesso motivo come vuoi però da qui a dire bellissimo cioè vabbè no comment ora e vi dico che ha schifato degli anelli favolosi comunque ora un altro anellino che mi sono fatta mandare la misura perché non ce l'avevano giusta è questo qui e ve lo faccio subito vedere eccolo questa è una collezione che è uscita quest'inverno e l'avete già visto ho il bracciale la collana gli orecchini e adesso l'anello insomma eccolo qui molto molto carino di questo blu molto acceso bellissimo con il mezzo gambo di qua e di là tutto tempestato di zirconie il rialzo anche fatto in questo modo quindi è luminosissimo anche così guardate tutti intorno è fatto veramente veramente bene bellissimo anello e il colore è strepitoso certo le mie ditate magari non aiutano vabbè il colore è strepitoso favoloso e si fa notare si fa notare questo è bellissimo io ho pensato anche di prendere una misura più grande per poterla poi mettere qui però vabbè adesso siccome non è che costa proprio poco adesso mi fermo a questa poi se pandora nei prossimi saldi magari mi fa scappare fuori quest'anello con un con uno sconto buono allora può darsi può darsi di sì oppure se qualcuno me lo regala va bene uguale io qui metterei una 54 grazie scherzo vabbè dice che sono sempre la peggio ha ragione comunque io a chiacchiere ho fatto una stecca sola e siamo già a mezz'ora cioè non è possibile segretaria sistemi questi anelli però ne erano tanti a mia discorpa scusate a mia discorpa devo dire che ne erano parecchi senti l'ametista mettila in un altro di questi dove ce n'è pochi qua perché sennò lì non c'entra capito anche questo lo mettito là perché sennò lì non c'entra andiamo di corsa avanti e questo perché sta fuori l'abbiamo già fatto vedere la Marchese no boh no ma perché c'è perché ce n'è una sola è perché l'altra è stata qua mi sa davvero e che l'ho fatta già vedere questi no qui non c'è scusate un attimo questi sono quelli fatti vedere già eh ma non c'è la Marchese non c'è non c'è qui ce n'è una sola io ne ho due di queste l'altra dov'è non lo so eccola scusate bene 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 iniziamo subito con lei no allora questa tanto la metto ne metto una vi faccio vedere l'altra va così allora questa è la Marchese molto bella anch'essa è vecchia è old di questa linea Pandora fece anche il pendente che però non sono riuscita a prendere bellissimo favoloso comunque che vi voglio dire eh che vi devo dire guardate è luminosissimo è un anello strepitoso adesso non cioè viene considerato ma secondo me sempre troppo poco ha una lavorazione qui sopra che eh sembra delle migliori gioiellerie malgrado sia argento e zirconia quindi voglio dire proprio basica eppure non eh non si attacca un filo niente proprio sono fatte delle lavorazioni favolose ve lo faccio vedere meglio nel dettaglio se non mi spara troppo la luce guardate quindi doveste cercare un anello vecchio fatto bene e bello io vi consiglio di cercare questo che è la fine del mondo è bellissimo è veramente molto molto bello è facile da portare perché è fatto sagomato qui quindi si sposa molto molto bene sul dito vedete non sporge quindi è facile da portare il gambo è sottile ma nello stesso tempo permette proprio l'abbraccio sul dito come si dice l'abbraccio di solito con le braccia con le dita come si dice vabbè mi ha alzato gli occhi al cielo segretaria niente io ho queste uscite così un po' infelici comunque ne ho due sempre il solito motivo perché uno lo metto di qua uno lo porto di là ed ecco qui questa è la storia molto 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 carini belli veramente strepitosi strepitosi bene questi sono oddio non si toglie io lo sapevo ecco partiamo con lui qui però troppo forse bisogna fermarci facciamo un altro video dai allora fermiamoci qui fermiamoci qui io faccio un video successivo che a questo punto sarà il sedicesimo e l'ultimo per quanto riguarda gli anelli e poi inizierò con altri bracciali che sono qua dentro finalmente riuscirò a farveli vedere e altre cose che ho in quest'altra scatolina e poi dovremmo aver concluso per quanto riguarda Pandora quindi probabilmente ci aspettano altri video abbastanza sì abbastanza altri video questa è stupenda dopo ve la faccio vedere al prossimo allora ci vediamo domani iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto così da attivare la campanella per non perdere i video successivi e mettete un like su se vi è piaciuto questo video fate i bravi sempre un po' tirchi e taccagni scherzo scherzo lo so che mi adorate me lo scrivete sempre anche in privato io apprezzo tantissimo altrimenti non li farei questi video perché insomma voglio dire io so quello che c'è in collezione quindi seguo sempre le vostre indicazioni cerco di rispondere a tutti come avete visto in privato faccio un po' più fatica perché siete tantissimi cioè infatti a volte purtroppo mi è più semplice rispondervi in pubblico perché magari riguardo un attimo il video per vedere se ve l'ho presentato oppure no eccetera eccetera e quindi i commenti quelli non risposti mi appaiono nell'immediato i messaggi privati faccio un pochino più fatica anche con instagram devo essere sincera ogni volta devo andarmi a ricercare un attimo i commenti ecco anche se appare sopra il segnaletto che dice c'è un commento però vabbè lasciamo stare no comment io e la tecnologia non andiamo proprio d'accordo e l'avete capito anche voi no? bene vi saluto vi do appuntamento a domani ciao ragazze